Come commenta le dichiarazioni di Alfano sull'operazione Mare Nostrum? Si commentano da sole. Mare Nostrum doveva finire già settimane fa, anzi non doveva neanche iniziare. Abbiamo aiutato gli scafisti a portare 150.000 schiavi in Italia senza un presente, senza un futuro, tranne che per un costo enorme sostenuto dagli italiani che li mantengono in ostello, in albergo, pagando gli colazione, pranzo e cena, la risposta è aiutarli là, aiutare quei paesi a svilupparsi, a crescere, questa gente a non scappare e a contribuire al futuro della propria terra. Alfano penso che sia una calamità naturale come poche altre ce ne sono state in passato.